Galoppa l'inflazione, Italia retrocessa, Italia meno affidabile. Da quinta potenza industriale mondiale siamo retrocessi in serie B. Onorevole Craxi, cosa sta succedendo all'economia italiana? L'economia italiana ha attraversato sette anni di vacche grasse. Non tutti ne hanno potuto approfittare, infatti abbiamo ancora molti poveri e molti squilibri. Ora si sta delineando il pericolo di un biblico settennio di vacche madre. Tutto questo è inevitabile? Tutto questo non è inevitabile, purché si sappiano prendere le misure che devono essere prese. Dobbiamo impedire che l'inflazione riprenda a galoppare, dobbiamo ridurre un deficit dello Stato che si è fatto, come sappiamo, enorme, dobbiamo dare un impulso all'economia. Insomma, dobbiamo saper prendere una bella rincorsa e correre nella direzione giusta. Forse occorre tornare ad essere decisionisti? Nella vita politica vede come nella vita delle famiglie è sempre meglio assumersi le responsabilità piuttosto che scansarle. E quel fiore? Diciamo che l'Italia è una bella signora che merita tanti bei fiori e noi ne possiamo dare uno che è semplice e bello. Partito Socialista Italiano. Cresce l'Italia. Cresce l'Italia.